Eccoci qui, eccoci qui, come vi ho detto il preambolo è stato appunto abbiamo Paolo Menis con noi. Buongiorno Paolo Menis. Buongiorno a voi. Eccoci qui, un personaggio carisma, una persona che vediamo spesso in strada con un banchetto, un tavolino e ferma la gente, però c'è una faccia anche simpatica per cui non ti incavoli quando ti ferma ma anzi spesso e volentieri firmi perché io ho firmato anche delle tue petizioni per cui adesso siamo molto fieri e felici infatti ti ho qui perché abbiamo avuto un grande risultato, quello sull'acqua potabile, che cosa sta avvenendo? Dicci. Abbiamo ottenuto la scorsa settimana un buonissimo risultato anche se è una prima battaglia vinta, non è la guerra finale vinta come ci piace pensarla noi. Il Consiglio Comunale scorso lunedì, quindi esattamente una settimana fa ha accolto la petizione popolare che qualche mese fa abbiamo proposto noi del gruppo Grillo e della lista civica 5 Stelle a difesa dell'acqua pubblica. Abbiamo raccolto più di mille firme, sottoscrizioni da parte dei triestini Certo. E quindi abbiamo avuto un buonissimo risultato come dicevo la scorsa settimana abbiamo fatto sentire la nostra voce e qualcuno l'ha sentita. E questa voce è una voce che come quella di Radio Punto Zero in questo momento che ti sentono tutti, ti stanno ascoltando perché stiamo anche in Veneto, siamo presenti a Treviso, Venezia, Padova, poi dopo Cortina dunque in questo momento noi stiamo parlando di una cosa molto importante perché l'altro giorno mi faceva ridere perché ci ho pensato un attimo, vendevamo la bora in scatola che è una cosa per la barcolana però è una cosa che mi fa pensare perché non dico che però ci manca solo che ci mettano la tassa sull'aria che respiriamo e siamo a posto. E qua a Trieste come sai la bora è importante ma l'acqua è ancora di più. Esatto. E quindi noi sosteniamo, abbiamo sostenuto con questa petizione, lo sosterremo sempre che l'acqua deve rimanere un bene pubblico, un bene comune, un bene essenziale per la vita di tutti noi quindi non possiamo pensare di commercializzarla. Anche perché appunto io ho visto dove hanno fatto questa, l'hanno privatizzata, è scattata intanto si è triplicata, non è stata controllata, non è che uno dice no sai la do in mano dei gestori privati che poi dopo sai la filtreranno meglio, la cureranno di più oppure non è niente così perché sennò va a finire come le autostrade Emano e Benetton che poi dopo sono tutta una buca però noi alla fine dopo loro reinvestono da quello che so in America là, in Argentina, per cui ci ritroviamo che magari avessimo anche qua il bollino come in Slovenia perché io con un viaggio me lo son pagato in Italia, cioè io che faccio l'attore di mestiere vado in tournée, devo dirti la verità, i 90 euro te li sei belli che messi via insomma insomma sarebbe una cosa buona piuttosto che queste operazioni. Dove è stata privatizzata l'acqua costa di più, è un dato di fatto, senza considerare che per esempio a Parigi, che è una delle appunto capitali europee, l'acqua è stata privatizzata a inizio degli anni 2000 e adesso il sindaco di Parigi è tornato indietro, ha ripubblicizzato l'acqua perché era costosa, è diventata costosa, il servizio non è migliorato perché poi il problema fondamentale dell'acqua sono le perdite all'interno della rete e pensiamo per esempio che a Trieste abbiamo ben 40% di perdite d'acqua sulla rete idrica e quindi questo è un problema che non si può risolvere privatizzando. Certo, certo, ma è una cosa che io non riesco a capire, come mai noi in Italia facciamo certe operazioni quando il mondo sta tornando a un certo, noi cominciamo appena a farle. E noi siamo sempre leggermente in controtendenza come... Ma cavole noi siamo quelli della moda, abbiamo inventato lo stile, invece su queste cose qui facciamo, ci inchiappettiamo, scusa il termine, perdonami, ce le facciamo da sole insomma, perché il nucleare per esempio in America da quello che so, la tanto odiata America da tante persone, però alla fine loro non costruiscono più una centrale nucleare da 15 anni e passa. C'è un problema di fondo secondo me. E noi le vogliamo fare. No, dicevo c'è un problema di fondo secondo me che non riguarda solo l'acqua ma qualsiasi risorsa pubblica che abbiamo a disposizione. Effettivamente è che il nostro paese, nel nostro paese non ci sono più risorse economiche pubbliche e quindi la tendenza o il modo più semplice per cercare di incamerare soldi e denari è quello di privatizzare, però secondo me è una strada assolutamente sbagliata perché non possiamo svendere il nostro paese. Esatto, e appunto oggi mi viene in mente la dichiarazione che ha fatto Marchionne l'altro giorno, ieri appunto, che ha detto in fin dei conti le buste paga adesso potranno essere aumentate, ma scusa se fai tutta la produzione all'estero si prevede che poi a chi te la fai da solo la busta paga, per lui che rappresenterà. Sì, ma lui ha detto che è un metalmeccanico quindi... Eh certo, ma infatti c'ha proprio il piglio, penso che lui sia stato un po' troppo... Chissà dove è stato, ma comunque vabbè, adesso facciamo un piccolo stacco musicale che a me piace molto, a me è diventato un po' l'inno del mio lunedì, è una canzone di Dalla perché io mi medesimo, tutti quelli che si sentono tali, ecco, ecco facciamo, la cantiamo magari assieme, va bene Paolo? Poi dopo però ci contrasteremo un attimo. Non facciamo sentirla nessuno però è il nostro canto. Perfetto, andiamo.